Buongiorno, io sono Anna Rosa, uno dei 63 lavoratori dell'Affalto Portinerie Regione Toscana, Portinerie Centralimisti Autistica. Al momento siamo in sciopero, come già abbiamo pagato nei mesi precedenti con altri scioperi, perché non siamo addivenuti a niente e ci garantisca uno stipendio dignitoso. Al momento guadagniamo soltanto 4,08 euro l'ora netti per 45 ore settimanali di lavoro. Il nostro contratto attuale è quello di portieri di stabile, che viene applicato ai proprietari di stabile, come se Regione Toscana lo fosse. In questo momento, in un rimpallo di responsabilità tra amministrazione, parte politica, Consiglio regionale, nonostante le due emozioni a nostro favore del Consiglio regionale, niente è cambiato. Tutt'ora abbiamo questo stipendio che è veramente d'affame e stiamo facendo presidio qui, sperando che la nostra Regione, che doveva essere simbolo e portatrice dei diritti dei lavoratori, tutt'altro lo è. Perché ognuno di loro credo che la cifra di 4,08 euro la spendano soltanto nei lavoratori.